e ciao ragazzi oggi farò per voi un gameplay su un simulatore cioè new york city new york city porca troia il mio piemontese esce fuori new york city taxi simulator niente a veder dalle immagini di steam dovrebbe essere una roba molto 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 bella graficamente c'è per dire meglio di grand theft auto 5 adesso vedrete secondo me è una puttanata però tanto io l'ho avuto gratis quindi cazzo mele ok caricamento sembra veloce non parlare crea un 93 che poi si blocca il caricamento mi sa che c'è il microfono troppo vicino alla bocca meglio spostarlo niente il taxi ha finito la benza non va più o va un millimetro alla volta non capisco domani mattina magari abbiamo caricato new york city city taxi simulator taxi simulator dai oh ma la miseria dai caricamento non lo taglio così soffrite assieme a me e poi vedremo il capolavoro dello schifo mi sa poi magari è bello magari si è bloccato il gioco non c'è più musica non c'è più niente ok new york city taxi simulator sembra una giornata difficile benvenuto nella città degli ingorghi stradali fortunatamente ci sono un sacco di clienti che aspettano un taxi andiamo ok speriamo anche che il framerate framerate sia decente ok sembra andare su madonna non va molto bene con questa qui è la grafica al massimo aia grafica al massimo e fa cagare e ha un framerate come tutti i simulatori infatti col culo c'è un framerate delle balle niente ce lo teniamo così per questo gameplay poi se ne volete un altro ma abbasserò la grafica sempre se è possibile abbassarla ok e fermati salve mi serve un taxi per la corsa turistica cioè una corsa turistica non ho il tempo vero? no ma dove devo andare? oh madonna facciamo inversione a U contro mano che comandi? sono contro mano veramente? vabbè no non fa non fa oh madonna porco new york pazzo taxi simulator 2999 livello 1.4 cosa vuol dire livello 1.4? noi andiamo contro mano a new york laggeggiando un pochettino scusatemi molto ma sti giochi qua sono fatti col culo ad eccezione di Eurotrack che almeno quello lì è ottimizzato bene mi va bene sul mio computer ok avessi un computer decente di simulatori su steam non ho tipo comprati in botto non avrò 30 simulatori ok ho finito di scaricare il gioco di game of thrones ok ci abbiamo quasi fatta un porco giuda mamma mia ma ci hanno dei freni le macchine in sto gioco guardate lì quello lì come si è fermato va taxi taxi che ci abbiamo messo un minuto e mezzo per far due metri gira frena e la miseria oh ce l'ho fatta l'ho portato oh ma non è ancora oh ma devo fare tutto il co... togliti signore si tolga che grafica della balla e andiamo avanti il bello di non aver mai provato il gioco prima è che vedete le mie impressioni in tempo reale ok una new york city una città di new york veramente brutta brutta che cavolo il caricamento dei palazzi mi ha spaventato ok adesso frena oh ma oh ma non frena gira gira oh non abbiamo fatto incidenti poi giriamo giriamo di nuovo contro mano io sono un ribellino porco 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 dai oh povera mercedes andiamo avanti questo qua sarà un gioco tedeschissimo avessi soldi da sputtanare mi comprerei anche eh new york city bus simulator che è sempre fatto dagli stessi anche quello lì dovrebbe essere un bellissimo gioco ce la posso fare eh ma ma tu anche tu vedi uno che incontro mano mi vai bocciare contro pezzo oh ma e passa passa mamma mia sti guidatori di oggi dove l'han preso la patente allora ci possiamo fare ad arrivare a destinazione ho fatto zero punto dove hai preso la patente dal fornaio no no comprata a porta palazzo stai zitto eh ok andiamo da a fare un'altra corsa là c'è una Volkswagen ho visto bene eh ma la visuale la posso spostare no si sembra una Volkswagen però se vado avanti sparisce il logo guardate vai indietro adesso c'è adesso magia non c'è più ok andiamo da un altro clip oh ma che cavolo di inversione fa gira un botto sta macchina veramente compratevi questo gioco sputtanate tipo 15 euro e vedrete che bel gioco è tanto c'è il riborso di steel quindi potete anche sputtanare per due ore 15 euro e poi rimborsarle allora salve mi sarà un taxi per ma di nuovo la corsa classica cosa vuol dire la corsa classica tempo 8-9 secondi inversione a U cerchiamo di guidare bene sto giro allora giriamo a destra e sul marciapiede ovviamente no contromano 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 ce la fa taglia la strada all'altro io stavolta farò la corsa velocissima una velocissima corsa alla bellezza di 25 frame per seco vaffanculo abbiamo bocciato e poi tra l'altro bellissimo gioco che c'ha la targa oscurata perché mi avete oscurato la targa oh non capisco questa scelta di design e la miseria che cartello ok anche sto qua mi dirà dove l'hai presa la patente stavolta l'ho presa all'asilo nido giriamo di qua sempre contromano ovviamente eccola lì che va a bocciare mamma mia ma poi la cosa bruttissima sta roba qua che le macchine inchiodano va solo va va a casa va a casa che la tua macchina nera mi hai tagliato la strada stronzo in realtà è colpa mia ma non fa niente quest'ora di assicurazione oh mamma mia quest'ora di assicurazione pagherei già 3000 euro neanche all'anno al mese oh ma vai vai te la tua familiare te i tuoi ragazzini delle balle guarda ti fermo di nuovo non c'è il clacson ah posso cambiare visuale appena scoperto che posso cambiare visuale con la c di creti eh ma non è possibile vai notiamo le bellissime targhe oscurate almeno non possono prenderne molte sti qua in questa new york proprio finta ma più finta di così non l'ho mai vista con gli alberi piantati nell'asfalto veramente guarda guardate ma non frena guardate l'albero piantato nell'asfalto veramente è fatto con i fiocchi contro fiocchi questo gioco dai ragazzi regalatemi quello dei bus e ci farò un gameplay donatemelo giriamo di qua e ma giria mamma mia no ma voi non sapete vedete che che roba è guidare le macchine in sto gioco di noi i palazzi che compaiono alla san andreas e sto gioco qui se non sbaglio è del 2015 quindi immaginate io sto facendo pagare un botto di ma vaffa ma no cambiamo visuale che è peggio di prima sto facendo pagare un botto di soldi al tizio che è in macchina perché sto facendo dei giri svarionanti allora ciò possiamo fare gira di qua poi andiamo giù dritti eccolo lì ma tu che cazzo fai ero di nuovo contro mano te la tua golf ma non è possibile io non capisco tutte le stelle sono contro mano in sto gioco gira gira ma vedete anche qua è tutto contro mano ok oh ah due stelle non così male continua così ok abbiamo pure preso dell'esperienza niente per questo gameplay è tutto per il gameplay su New York City Tech Toxic Simulator 2015 se non sbaglio sto mettendo la 100 inglese per fare più figo e niente se volete altri gameplay su questo gioco fatemelo sapere nei commenti diversamente per questo video è tutto ciao ragazzi oh no di nuovo che non mi stoppa i video ma porco loilo